Torino è la sua città! Il 14 non si chiama con Carolo, Andrea De Giants, guardalo bene! Te lo ricordi? Ho sentito parlare! Era il datatore di Brestling, buon quale! Adesso però è il nostro momento, è il momento di Torino, è il momento di far sentire la voce! Il proletto è il mio amico! Il partito è il mio amico! Il programma numero 6 stefano Battagli! Il proletto è il nostro programma! Il passaggio è il nostro programma! Il numero numero nove il capitolo Lorenzo Battagli! Il delamma di 10 barbaccio è il nostro programma! Il numero 11 Lorenzo Battagli! No, 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 no. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.